Ciao e bentornati sul canale! Bentornati carissimi amici dove siamo oggi per un breve filmato siamo al sea life di Gardaland che per chi non lo sapesse è un mega acquario molto molto bello qui siamo nel secondo piano sopra la vasca grande l'abbiamo già passata ma qua anche qua ci sono cose belle tipo? questa... hai visto che c'è un cavalluccio marino col cappello di Damago? di Gardaland andiamo a vedere questa vasca dai siamo verso la chiusura quindi non c'è praticamente nessuno ci sono i mini dori e qui cosa c'è? niente guarda come il corpo sotto ah ok che sembra... che papà mi sa che tengono i cuccioli andiamo avanti andiamo a vedere questa vasca vedi da qua ti fa vedere quanto è largo pesce palla piccolo pesce palla e guarda che bella questa vasca con la fontana con dentro le razze e c'è un po' gli occhi storti ragazzone vediamo se riesco a non far cadere ah ecco poi praticamente siamo arrivati alla fine del percorso di là ci sono le meduse e poi c'è lo shop e il ristorante ci fermiamo bene qualcosa ok? quindi era giusto... andiamo a vedere solo lì un pezzettino così arriviamo due minuti per far vedere un po' com'è vediamo le meduse guarda che ci fermiamo le meduse guarda che belle cambiano le luci per farti vedere che sono trasparenti e cambiano colore bellissimo una volta è la più grande la zona delle meduse fantastico quindi giusto un video toccate fuga noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare e come sempre noi vi sentiamo ci vediamo al prossimo video ciao! ciao!